Siamo ritornate! Allora, benvenuti in un nuovo video Siamo ritornate un po' male La videocamera ci stava per abbandonare Proprio in uno dei video più belli della storia Appuntamento mensile Mamma mia Io stavo per voi Ok, eccoci qua con il nostro appuntamento mensile Con Degusta Box Cioè, l'abbiamo aperto subito E' arrivato ierino così Ne apriamo domani, ti apriamo Mamma mia Comunque ci tenevo a dire che io non collaboro con Degusta Box Ma vi lascio giù nell'info box un link Che voi, se volete acquistare la box Invece di pagarla 16€ La pagate solo 10€ Comprese di spese e di spedizioni Ovviamente non riceverete la box di luglio Ma quella lì di agosto Ovviamente io non ci guadagno nessuna percentuale Potete farlo anche voi Infatti potete farlo anche voi Ogni persona che poi acquista con il vostro link Accumulate 50 punti Ok, io direi Prima di farlo un attimo la foto di copertina Che non l'abbiamo fatta Non siamo più abituate a registrare i video E poi di aprire la box insieme Monti? Partenza? Via! Allora Non guardiamo Mi avviciniamo Allora, tiriamo fuori tutte Era leggera questo mio Se le scartocchie Non le guardare Ok, pesco io Però la vedo bella consistente Allora Fresh Zinco Più Vitamina C Vitamina C Frisk Defensive All'arancia Vabbè raga Eccoli qua Iniziamo bene Le gocce wild Integrali Integrali Ricchi di fibre Con farina integrale E cioccolato fondente Speriamo di riuscire a fare una 24 ore Sì, speriamo Eccoli qua Ovviamente li vedrete nel dettaglio Nella 24 ore E' molto passato sull'integrale Secondo me sono messe Molino Spadoni Pasta con farina di teff Senza glutine Specificamente formulato per celiaci Fonte di fibre Prodotto vegano Non da provare assolutamente Secondo me è bene Eccolo qua Cottura a 8-10 minuti Va bene Prego Piada croc Guarda mi disse se buona Piada croc Casa della piada Patate, ceci e rosmarino Adoro La sgranocchiale Sembra tipo schiacciatine Sì, sì Adoro, adoro, adoro Vuoi pescare tu? No, ho pescato io Ok Quindi io lo pescare Oh, non c'era Questa volta non c'era Ovviamente sempre tutto imballato come si deve Birra Churchill Analcolica Questa è con me No Questa è con me praticamente Quindi in gioco di mabriaca Ragazzi, va bene Facciamo un video Non alcol Eccola qua L'ho mai vista Non è anche l'alcolica Perciò forse non l'ho mai vista Eccola qui Mi raccomando Mi sono spoilerata sul foglio E' una roba trucche infatti Sempre integrale Quindi raga faremo una 24 ore integrale Maggio solo integrale Maggio solo integrale Oh, la già fa Ma giusto Qualcuno che copia questa tipologia di video Voglio diritti, eh Allora Tuck Cracker Integrale con farina integrale Cereali Se non è quelli che si sono buoni Che mi sono buoni Orzo Tre Ok, raga Mi sono venute in mente 7 miliardi di video da fare Farina integrale Segale Avena E orzo Ok Io devo pescare Che cosa è? Uore Pesso alla genovese Monodose Monodose Chissà Lo sai Se esiste Nei suoi mercati Proprio così Oppure loro te lo danno Giusto per provare Adoro Raga Con la pasta È per forza Guarda Secondo me è buono Io non adoro il pesto Però questo è 100% basilico Italiano Vedremo Se non è buono Ado io Mi sta già vinendo Abbiamo ordinato anche la Claude Come si chiama? La Cordo La Cordo Kit completo Tiramisu Con il Con il Savoiardone di Sardegna Adoro Mamma Immaggiamo Contiene 8 Savoiardi di Sardegna Preparato per crema tiramisù Caffè in polvere solubile Cacao amaro E una vaschetta Comune Una comoda vaschetta Dobbiamo aggiungere solo la panna Noi Sì 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 ma solo per questo Carina Ok Quindi stasera lo devo fare Bella Tipico Ah perché la fai domani? Domani Ok Però stasera facciamo questo Pronte in 10 minuti Casa le aree a carapelli Olive verdi con basilico De nocciolate Ah sono olive verdi Pronte da gustare E' quel Fa l'olio Da carapelli Adoro Guarda secondo me sono Buonanamente questa box Ma forse devi pescare tu No io ho pescado Il tiramisù Per una diperitiva A casa Per la merenda Per i piccoli Ok Questa vicina alla birra Il pomeriggio Sì ci sta Ok Ok Pasqua Pasqua Marcia Succo pronto Sicuro Malennissima Calveo La assaggeremo E morirò in diretta Calvee Senape Deluxe 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 Non mi spiego No Questa Non mi piace La senape Va bene Io C'è un altro foglio Non c'è finita Ci sono solo due o tre prodotti Che succede se stava fuori Infatti lo devo spiegare Ok Fruzitia Fruzitia O fruzzeta Non ce l'ho mai capito Fruzitia Fruzitia Penso eh Non ci sa Ma ci poteva andare Questa cromone Eh Secondo me ha detto Che siamo Abbuffate limone Il corso video Che succede Anna Eccola qua Chissà Ragazzi Sono molto leggero Come sapone Te verde Hai detto Un altro Un altro Se con uno non ce la fai Per farlo Non ho messo Ora Be kind Be kind Be kind Li ho sempre volute provare Perché se non sbaglio Sono le barrette Che mangia Michelinia Se non sbaglio Non voglio dire Una stupidaggine Però se non sbaglio Sì Se la seguite Mi fate sapere Che ho detto Ma stronzata Lei le prende su Amazon Dark chocolate Nuts E si Esatto Che cosa significa Penso che sia alburata Allora Cioccolato fondente Aranchi No Le mandorle No Penso siano uscini Non lo so Nuts Non lo so Trammi queste sembrano mandorle Mandorle E sale Brava Eccola qua Sale marino Sì Le prossime unghie le faccio Di questo colore È tutto finito Allora io penso che Tocca a te Prendere La tua brochure Oh Tieni lo sconto Di 70 centesimi Ma se vado al negozio Mi taglia il buono Sponto Enrique Che consegnerà la casa Qua adoro Qua se siamo Qua che siamo Sulle montagne L'accetteranno Sì Develo accettare Ok Lo conserveremo Lo daremo a mamma Così quando va a fare la spesa Fa la figa Voglio un attimo Fare la Il repilogo Della situazione Come sempre Secondo te Tu sei mi sei Qual è Vabbè L'ho visto Tocca Perché ce l'ha spollato Quando l'ha fatto Allora Io penso che il valore Di questa box Sia sempre intorno Alle 30 euro Anche perché Allora Iniziamo dal primo prodotto Birra 1 euro e 19 Le olive Snocciolate 1 euro e 59 Barretta Be kind 1,99 O comunque No Sì Appunto I tracker 2 euro e 09 Le frisk 2 euro Le bussine Ah ma allora Si vendono Sì Perché le bussine Con il peso 1 euro e 29 Però lo sai Secondo me è un'ottima cosa Perché ovviamente Sono una persona Che cosa A due persone Ci stanno Quindi 1 euro e 29 A bussina Calvè 1,99 Fuse T No 0,79 Gocciole 2,29 Poi Casa della Piada 1,99 E il tiramisù 4,50 Avete fatto il conteggio Scrivetecelo giù Sì Alla fine dai Ci sta Rispetto all'ultima box Perché poi c'è il tiramisù dentro Particolare Da fare Sì E poi devo dire la verità Che è sempre Ben bilanciata Veramente Sempre No Cose interessanti Da provare Soprattutto quelle cucciole Ci sta Qua E questo Ok ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Fateci sapere Se anche voi Avete acquistato La box Il mese prossimo Dovrete aspettare Sì Perché lei Non c'è Ah beh Un giorno Devono aspettare Io pure Devo aspettare Che così Ti apro Ti apro Ti apro Ti apro Ti tornero al 20 Se arriva il 19 Ti aspetteremo insieme Sì Coracco Ok ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto E ne ci vediamo Nel prossimo video Ciao